Vice sindaco Mattarese, pedane alla Chiaia, per molti uno scandalo. La sua posizione? Allora innanzitutto questa è stata autorizzata a seguito di una conferenza di servizi anche con il parere della sovrintendenza. Chiaramente noi siamo, bisogna tener conto, si tratta comunque di autorizzazioni temporanee e tenendo conto anche che c'è la necessità comunque di permettere a alcune famiglie, soprattutto in questo momento, di gravissimo disagio economico di poter vivere, poter lavorare. Noi abbiamo raggiunto quell'impegno, assunto quello di ripristinare la spiaggia libera della Chiaia che precedentemente era stata data ad un altro concessionario, quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di contemperare l'interesse innanzitutto della cittadinanza di favorire maggiormente l'ampliamento delle spiagge liberi, venendo incontro a quelle che sono anche le esigenze delle famiglie che lavorano di questa. Ora nel limite del possibile si cercherà, tenendo conto che si tratta comunque di un'autorizzazione temporanea perché si tratta di interventi autorizzati sia dalla conferenza di servizio che dalla sovrintendenza di cercare di limitare un po' l'impatto. In effetti bisognerebbe cercare di trovare un'altra collocazione che sia meno impattante. Esatto, esatto, perché l'impatto e la visibilità è dalla spiaggia, quella collocazione della sovrintendenza era stata individuata proprio ritenendo che era non di meno impatto possibile, ripeto, stiamo cercando di spostarla in modo da poter rendere l'impatto meno traumatico, tra virgolette. Pensate di riuscirci? Speriamo, certamente.